Si vota. Dopo l'infocata campagna elettorale, oggi è calato il silenzio. Silenzio elettorale. Nessuno dei contendenti alla poltrona di sindaco e al Consiglio Comunale può comiziare e promuovere incontri. Adesso tocca ai cittadini esprimere le proprie preferenze nella massima libertà e senza condizionamenti. Un voto libero. Ed il voto non sarà inutile, così come qualcuno potrebbe pensare. Votare è un diritto, eppure un dovere civico. In città sono chiamati al voto 65.861 persone. Gli uomini sono 32.112, le donne 33.749. Si regranno alle urne anche 131 straniere residenti a Gela. Si tratta di 97 donne e di 34 uomini. Si voterà in 71 sezioni distribuite in 9 plessi scolastici. Ci sono anche due sezioni speciali. Si tratta della casa circondariale di Contrada Balate e dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le scuole in cui si voterà sono la San Francesco, in piazza Sant'Agostino, la Lombardo Radice di via Trapani, la Giovanni XXIII di via Settefarine, la succursale Luigi Capuana di Contrada Scavone, il Quinto Circolo di via Venezia, la Luigi Capuana di via Palazzi, l'Enrico Solito di via Berce, la Antonietta Aldizio di via Feace e la Santa Maria di Gesù di via Ventura. Sono 73 i presidenti di seggio, 359 gli scrutatori, la maggior parte di sesso femminile. Si voterà dalle 8 alle 22 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Subito dopo comincerà lo spoglio. Ben 11 i candidati alla poltrona di sindaco. Una vera e propria squadra di calcio. C'è l'uscente Angelo Fasulo appoggiato da 5 liste, il Partito Democratico, il Patto dei Democratici per la Riforme, il Megafono, Gela Città e Polo Civico Popolare. C'è Lucio Greco del movimento politico Un'altra Gela e della lista Forza Gela. Gioacchino Pellitteri di Forza Italia, Partito Liberale Arcobaleno Gela, moderati in Rivoluzione ed Autonomisti per Gela. Giuseppe Di Dio delle liste Reset 4.0 e Nuovi Orizzonti. Maurizio Melfa di Ripartiamo da Zero, Domenico Messinese del Movimento 5 Stelle, Saverio Di Blasi della lista Di Blasi sindaco di Gela, Torino Ventura di Rinascita Gelese, Antonio Giudice di Noi Consalvini, Giuseppe Cosenza del Il Popolo dei Forconi, Cosenza Sindaco ed Elio Arancio della lista Siamo Gela. 20 le liste con ben 579 candidati al Consiglio Comunale per 30 posti. Dei 30 consiglieri comunali uscenti concorrono in 15, cioè la metà. In merito alle amministrative di Gela, anche la nostra emittente scenderà in campo. Lunedì prossimo, dalle 16 in poi, subito dopo lo spoglio, andrà in onda il non-stop elettorale. Condurrà Franco Gallo, previsti numerosi ospiti in studio e vari collegamenti. L'iniziativa porta le firme di Canale 10 e di Radio Bella FM, in redazione Fabiola Polara. Dagli studi radiofonici ci saranno i colleghi Fabrizio Parisi, Luca Maganugo e Rosario Cauchi. Il non-stop elettorale si avverrà della preziosa collaborazione di Nuccio Mulè. Appuntamento dunque sia in TV che in radio. Vi ricordiamo, dalle 16 in poi, di lunedì prossimo.